Ciao a tutti, oggi vi parlo della saturazione, di come questo meccanismo può essere utile nella vostra registrazione e nel vostro messaggio. Quando parliamo di saturazione parliamo in realtà di un eccesso di segnale all'interno di un sistema che deve immagazzinarlo, nel nostro caso ovviamente collegato con la registrazione audio. Per esempio il nastro magnetico ha un punto oltre il quale non riesce più a immagazzinare cambiamenti di volume però satura e quindi si ottiene questo effetto che sarebbe una forma di distorsione perché l'onda viene alterata, nel senso viene modificata in modo non tanto forte da considerare con una vera e propria distorsione, ma una saturazione, cioè un'alterazione della forma d'onda. Questo avviene anche per esempio nei preamplificatori microfonici come i 1073, che è un preamplificatore in classe A con un trasformatore in uscita. Questi trasformatori anche soffrono di questo meccanismo di saturare quando si cerca di superare la loro capacità di immagazzinare l'informazione, trasformando, modificando leggermente l'onda, arrotondandola in qualche modo. Questo provoca una crescita della media a parità di picchi. Questo è tutto legato alle catene analogiche, mentre invece il nostro sistema digitale di registrazione usato correttamente non ha nessuno di questi problemi. I transienti vengono rispettati perfettamente, purché appunto non si vada in overload, quindi in distorsione, perché si è superata la capacità di immagazzinare numericamente la scansione che è stata fatta. Se noi facciamo una registrazione digitale senza mai andare oltre lo zero, i nostri transienti saranno fedelissimi, saranno rispettati in modo perfetto. Mentre invece nel mondo analogico i nostri transienti saranno comunque alterati, più o meno a secondo di quanto noi spingiamo il volume all'interno del sistema analogico. Se vogliamo un'onda perfettamente fedele, dobbiamo abbassare anche il volume di registrazione. Quando invece noi vogliamo sentire questo effetto di saturazione, dovremo alzare leggermente in volume. Questo per esempio ci fa capire che a parità di volume di registrazione ottimale, non c'è grande differenza tra un preamplificatore a transistor, valvolare, eccetera, ma questa differenza noi la facciamo ad avvertire quando spingiamo questi preamplificatori oltre il giusto, diciamo così, e otteniamo saturazioni differenti a secondo se è a transistor, se è valvolare, se è fette e così via. Questo ci fa capire che se noi utilizziamo l'apparecchiatura analogica in modo corretto non ha tutto questo carattere differente tra transistor e valvolare. Questo carattere si mostra solo in regime di saturazione. Altro discorso è per il nastro magnetico. Il nastro magnetico, per come viene concepito, ha intrinseca una sorta di saturazione dovuta al fatto che bisogna ottimizzare il volume di registrazione tra due estremi. L'estremo più alto che ci costringe a stare attenti a non saturare troppo il segnale ma mantenerlo entro un certo grado ragionevole di distorsione e il livello più basso invece è il rumore di fondo del nastro che è elevatissimo. Quindi bisogna trovare un punto ottimale tra questi due estremi. Questo punto ottimale, specialmente nella musica, diciamo, moderna, rock, pop, eccetera tendeva alla saturazione, cioè a un arrotondamento dell'onda, una modifica dell'onda che consentiva di alzare un po' la media a scapito del transiente. Questo è intrinseco nel sistema. Considerate che, per esempio, una macchina digitale, una macchina analogica di buona qualità, cioè le Studer, le Otari, eccetera, eccetera arrivano come dinamica effettiva disponibile circa 67 decibel dallo zero view al rumore di fondo più circa 12 al di sopra per i transienti. Quindi totalmente stiamo parlando di 67 più 12 e quindi è una dinamica di gran lunga inferiore a quella che noi abbiamo a disposizione oggi registrando a 24 bit che si arriva ai teorici 144 dB ma di fatto possiamo dire che ne abbiamo certamente 120. Quindi non c'è alcuna ragione nel mondo digitale di spingere il volume di registrazione nei pressi della saturazione o della distorsione perché nel digitale non satura, il digitale distorce. Cioè l'onda non viene più riprodotta come era viene riprodotta una cosa squadrata che suona come una bruttissima distorsione. Nel mondo analogico prima di arrivare a quella bruttissima distorsione c'era un arrotondamento che può essere piacevole che nel mondo digitale non c'è se non lo andiamo a creare noi apposta. E questo si può fare con dei plug-in appositi che oggi sono a disposizione, ce ne sono tantissimi. Per esempio abbiamo l'ultimo arrivato della Waves che si chiamava Magma dB che sembra che si chiami così che tenta di fare proprio questo aggiungendo piccole quantità di saturazione o di seconda armonica o di terza armonica o entrambe per ricreare in modo semplice gli effetti di saturazione o di distorsione se ovviamente spingiamo molto. Un'apparecchiatura che era molto usata negli anni 80 che si chiamava Afex Aural Exciter era la riproduzione professionale di un trucco che usavamo sempre in studio di registrazione quello di mettere su un canale un distorsore per chitarra per esempio con una copia della voce principale una quantità minima di saturazione o distorsione addirittura poteva rendere la voce molto più intelligibile molto più ricca di armonici e quindi molto più capace di penetrare l'arrangiamento che spesso nel rock sono molto densi sono ricchi di armoniche perché le chitarre distorte la batteria e così via. Tutte queste tecniche oggi sono disponibili anche in plug-in di vario tipo ce n'è una pretora c'è una scelta enorme ognuno ha ricreato la sua versione dei saturatori o dei distorsori anche volendo ovviamente possiamo anche utilizzare per lo stesso scopo simulatori di amplificatori valvolari compressori valvolari compressori diciamo tipo 1176 che ha una sua particolare distorsione o saturazione che può essere utile in caso delle voci o ovviamente possiamo scegliere dei compressori di dinamica che non hanno queste distorsioni per fare quello che deve fare il compressore di dinamica cioè controllare la dinamica del suono molto spesso però l'ingegnere del suono moderno utilizza i compressori di dinamica come delle scatole per colorare il suono e lo fa attraverso la saturazione o la distorsione spero che questo video vi aiuti a trovare il tempo di sperimentare con i plugin che avete di saturazione e vi faccia capire che il mondo analogico aveva il problema di preservare i transienti perché il sistema di registrazione analogico maltrattava i transienti nel mondo digitale abbiamo il problema opposto perché il mondo digitale rispetta moltissimo i transienti e quello che dobbiamo fare invece è essere noi attivamente a controllare i transienti per evitare che poi la media del segnale sia troppo bassa rispetto al volume di registrazione quindi sono due approcci agli antipodi che se noi conosciamo e siamo in grado di gestire potrebbero dare risultati molto soddisfacenti anche nel mondo digitale così come io so perché lo uso da tantissimi anni quindi se questo video vi è piaciuto magari sottoscrivete il canale e magari accendete anche la campanella così sarete informati per il mio prossimo video un saluto, ciao!